quale gomma scegliere agilis camping agilis alpin oppure la cross climat a voi la scelta argomento secondo me molto molto interessante questa volta ho cambiato posto mi sono messo qua a cantare giurini gioia perché ogni tanto anche in dinette è bene starci allora parliamo di un argomento secondo me molto molto interessante iniziano a calare temperature infatti si vede che da oggi mi metto la maglia a maniche lunghe perché siamo scesi a 16 gradi e quindi ci si inizia a mettere a mani a maniche lunghe cosa vuol dire si va verso l'autunno verso l'inverno quindi temperature molto più rigide e magari anche la neve bella neve speriamo anche ci capiti perché la neve è sempre una bella cosa un bel avvenimento specialmente per chi ha bambini bene intanto mi presento sono daniele insieme a simona che è mia moglie gioia brian i nostri figli e la nostra gattina nichi siamo i camperisti nerba se vi piacciono questi video metti un like iscriviti al canale attiva la campanellina così sarà sempre avvisato quando escono i nuovi video commenti chiaramente sotto il video commentate dite quello che pensate quello che vi sembra giusto dire così almeno anche io capisco le vostre idee quello che ne pensate parliamo di pneumatici parliamo di pneumatici perché la domanda ora si inizia a sorgere spontanea beh vado verso l'inverno cosa faccio tengo le estive oppure monto le invernali o montano a quattro stagioni michele al momento ha due prodotti catalogo per noi le cross climate e le invernali pure quindi sono i due prodotti che ha michele al catalogo ma sul campo e specialmente quando prendiamo nuovo troviamo ancora come primo equipaggiamento le michele agilis camping che sono dei pneumatici marchati mps ma realtà sono estivi al 100 per cento non hanno niente di quello che può essere un invernale a questo punto un po il dubbio ci viene abbiamo tre pneumatici michele che sono ognuno adatto a una particolare esigenza ovvero abbiamo le vecchie agilis quelle che conosciamo tutti ci sono sempre state che sono dei pneumatici completamente estivi vanno bene benissimo su strade asfaltate e non ma sulla neve veramente peccano perché non sono pneumatici pur avendo una marchiatura m più s che vuol dire mood snow ma non hanno il simbolo alpino quello con la montagnetta con le tre ponte e il fiocco di neve all'interno e vuol dire che non sono invernali infatti chi ha le agilis camping le vecchie vanno benissimo tutte le situazioni ma devo dire sulla neve lasciano il tempo che trovano ad oggi comunque disponibili in vendita perché queste si possono trovare come primo equipaggiamento ancora su tanti mezzi vengono date le agilis camping se invece dobbiamo andare a sostituire i nostri pneumatici a catalogo troviamo le cross climate cross climate che pneumatici sono sono dei pneumatici estremamente estivi al cento per cento ma hanno una mescola che consente di lavorare dai meno 10 in su quindi cosa vuol dire che riescano a lavorare e la mescola quindi la morbidezza non diventa rigida diventa una gomma che la mescola proprio il battistrada riesce a lavorare anche a temperature molto rigide inoltre il disegno questa v che fanno classica proprio tipica di questo pneumatico consente di trattenere la neve e quindi il pneumatico trattenendo la neve fa aderenza neve su neve quindi quando voi andate a guidare sulla neve l'allerenza neve su neve il contatto riesce a creare un grip molto molto elevato riesce quasi a equiparare un invernale vera pur avendo delle caratteristiche estive quindi una cross climat va benissimo in tutte le situazioni al 90 per cento delle situazioni va benissimo diciamo quando è che non va bene quindi a oggi se dovete montare un pneumatico estivo scegliete cross climat camping avete preso il massimo e siete nel 90 per cento situazioni al massimo dell'efficienza quando è che magari possiamo valutare di prendere un invernale perché molti dicono ma io vado a sciare è ma io faccio viaggi d'inverno diventa freddo se trovo la neve cosa faccio montano a cross climat o un invernale beh il punto di svolta della scelta tra un pneumatico e l'altro poi comunque nel prossimo video c'è il tecnico che ve lo dirà e ve lo faccio uscire ora penso inizio settimana così almeno diciamo ci sarà un'ufficialità di quello che dico quindi qualcosa ancora di più diciamo il limite le condizioni di scelta tra un invernale è una cross climat e quindi diciamo qual è quella condizione che ci fa dire meglio metterlo in invernale l'invernale va bene se voi prevedete di percorrere tante strade innevate durante l'inverno quindi voi volete andare a temperature veramente molto molto rigide e non una volta ok perché se una volta andiamo al divigno andiamo con le cross climat che vanno già discretamente bene al limite montiamo le catene ok le catene buone parliamo di tulle parliamo di conighe catene buone da 16 mm nel caso di necessità buttiamo sotto le catene e andiamo perfetto ma quando è che che servono le invernali quando noi all'inverno scendiamo 6 7 volte 8 volte l'anno ok andiamo a temperature molto digite vogliamo percorrere tratti molto lunghi su neve ce ne vogliamo andare a giro tutto l'inverno in austria svizzera sulle alpi quindi incontriamo tanta neve andiamo a fare un viaggio nei paesi dove c'è veramente freddo dove c'è tanta neve quindi vogliamo percorrere strade non a meno 5 meno 8 meno 10 vogliamo andare anche a meno 15 meno 18 meno 20 e vogliamo dei pneumatici che ci consentano un grip e una sicurezza maggiore a quelle temperature beh allora lì l'invernale è veramente consigliata altrimenti con le cross climat riuscite a muovervi senza grossi problemi su tutte le condizioni meteo in un video che ho già fatto vedere in un video in cui ne ho parlato faccio vedere benissimo che le cross climat montano il col della bonnet il col della bonnet innevato non è proprio una passeggiatina è una bella salita e si sale fino a circa 2700 meri quindi se si riesce ad arrivare la con la neve sulla strada strada pulita comunque però con la neve è bianca la strada quindi la neve c'è in terra si riesce ad arrampicarci lassù con un camper un mezzo del genere è vero qui è una situazione proprio ottimale non c'è il traffico quindi puoi sfruttare la strada in maniera diversa non c'è nessuno che ti fa fermare ok ci sono delle condizioni ottimali magari un camper scarico non è un camper super peso ok però ci arriva ok partiamo da questa condizione noi se facciamo un pochino meno ma non ci vogliamo arrampicare sul col della bonnet che tanto è chiuso ma vogliamo andare sulle nostre strade probabilmente con le cross climat abbiamo la scelta migliore in assoluto poi magari pensiamo alle invernali se veramente vogliamo andare tutti i fini settemane sulla neve vogliamo percorrere tanti chilometri di strada invernali tanti chilometri strade con temperature rigide ed innevate ok quindi le invernali ad oggi con le cross climat diciamo sono molto molto meno importanti averle mentre prima un invernale era molto molto importante rispetto a un agilis camping che era un pneumatico prettamente estivo quindi non aveva nessuna dote nessuna caratteristica per essere diciamo usato in inverno si aveva la mps che aveva una scolpitura leggermente maggiore ma lì ci fermavamo io sto guardando fuori perché a volte ci sono delle ventate che portano via siamo con i venti tra gli 80 e 100 chilometri orari oggi quindi è un bel andare si vuole via infatti sono qui che faccio il video c'è ricampe che sballotta in quella ma comunque nella zona protetta quindi pochi problemi quindi mettete cross climat andate nel 90 per cento dei casi senza alcun problema oppure passata le invernali vostro giudizio ma vi comportano altra spesa altri pneumatici e le invernali invecchiano molto prima perché la mescola tende sempre a peggiorare quindi se volete le invernali montatele il consiglio che vi do spassionato sempre a tutti montatele quando è veramente freddo e togliete le prima che inizia a fare caldo nel nostro caso diciamo si possono iniziare a montare da metà novembre o i primi di dicembre fino a febbraio marzo ok perché quando le temperature veramente vanno al di sopra dei sette gradi diciamo il pneumatico invernale non è consigliato tenerlo quindi capite che le temperature devono essere veramente molto basse 7 gradi 10 gradi e dir tanto è una temperatura molto alta per il pneumatico e inizia a perdere le sue caratteristiche perché non è più la mescola progettata per quelle temperature che tiene d'estate chiaramente è veramente per me dico una grande cavolata tenere un invernale d'estate però poi c'è chi le tiene perché la legge dice che mi consente di poter guidare quindi andare in giro con le invernali io vi dico che è una cosa altamente sbagliata perché l'invernale d'estate assolutamente non va bene si surriscalda si usura prima la mescola non è studiata per quelle per quelle temperature qui allunga le frenate diminuisce la tenuta di strada le ha tutte contro ok quindi l'invernale d'estate no pensate bene se vale la pena a questo punto visto che abbiamo delle gomme così prestanti come le cross climat acquistare le invernali per poi fare delle piccole cose chiaro l'ho detto se la gente va a sciare se andate sempre a sciare perché potete sempre stare innevate l'invernale sicuramente vi dà un bel gradino in più ringrazio avermi guardato in questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo e il prossimo sarà con il tecnico e quello sarà veramente tosto come video ciao ragazzi